L'intervista al mister è offerta da... RMC, buongiorno. Eh, sono Rossi, eh. Ho un problema con l'escavador. Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra. Eh, ma... ma fai che portare? Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali. Da boh? E se vuoi cambiare? Siamo concessionari Yanmar, Itachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati. Allora ho fatto buio e c'è merda. RMC, Montale, Piacenza. RMCricambi.com Siamo qua con mister Rossini per analizzare questa quinta vittoria su sette partite della tua gestione, perché questi sono obiettivamente i dati. Ecco, cominciamo da lì. Avresti mai immaginato un percorso del genere quando sei arrivato? No, ma guarda, di questa cosa non voglio parlare, perché tu quando arrivi è chiaro che hai poi pensieri, le tue cose, però io non sono abituato a immaginare cose, sono abituato a vivere realisticamente il momento e basta. È chiaro che ci pensi, no? Dici, cavolo, se riesci a fare bene, la soddisfazione è tanta. È chiaro che c'è tanta strada ancora da fare. Io dico che non abbiamo fatto ancora niente, anzi, dobbiamo migliorare ancora, ma tanto, 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 perché oggi è una partita che io, attenzione, ragazzi, anche a livello di qualità non è che gli posso dire niente. Hanno fatto una partita nelle due fasi, per me, molto buona, sia quella difensiva che quella offensiva. Ahimè, però, non chiudiamo mai le partite. E questa è già la seconda volta che succede. E questo può diventare, non vorrei che diventasse un limite, no? Perché poi dopo, l'ho detto domenica e lo ridico oggi, no? Se tu non chiudi le partite, poi dopo può succedere di tutto, una palina inattiva, un errore. Cioè, noi siamo stati bravi che non abbiamo fatto un errore dietro. Gli abbiamo tenuti sempre fuori dall'aria. Quello, siamo stati molto bravi in quello lì. E' chiaro che però, poi dopo, lì, davanti nelle situazioni che abbiamo avuto, abbiamo sprecato troppo, tanto, e quello dobbiamo migliorarlo. Perché, ripeto, la squadra che vuole vincere, le partite le deve saper chiudere anche. Ci sono stati errori di finalizzazione e errori anche di ultimo passaggio. Cioè, in entrambi le cose oggi abbiamo sbagliato. In una partita, scusa, in cui c'è stata, per larghe pratti, tratti una superiorità clamorosa. Sì, però l'hai detto tu. Quello che ho detto io. Non siamo stati bravi oggi a chiuderla nel fare... Ma, al di là dell'ultimo passaggio, anche che ci sta, perché abbiamo sbagliato anche l'ultimo passaggio in alcune situazioni, però anche quando l'ultimo passaggio è stato giusto, non abbiamo concretizzato delle palle che bastava pochissimo. ma ecco, io dico, ci vuole più cattiveria agonistica in quelle situazioni lì. Più cattiveria dire io la palla la sgonfio, la buco, la faccio guarda, ma la palla deve andare dentro. Quello lì, perché io chiamo carica agonistica, cattiveria agonistica, non lo so, però dobbiamo essere bravi a fare questo, perché le situazioni poi dopo si complicano. E quindi, già è difficilissimo, perché, come vedi, anche tutte le squadre non ti regala niente a nessuno. Ripeto, forse la settima volta, sono qui da sette partite, giusto? Sì, sì. E dico, quando giocano col Piacenza, è normale, fanno la partita tutti della vita, perché comunque giocano contro una squadra che ha avuto una storia, che ha una storia. quando vengono da noi, giocano in uno stadio che è uno stadio, e quindi già loro partono con quel vantaggio. Quindi noi dobbiamo essere bravi, passatemi il termine, a smorzarli quando c'è da smorzarli. Che era successo, peraltro, con il gol dopo sei minuti? Abbiamo detto, non facciamoli accendere, non facciamoli gasare. E invece siamo partiti molto bene. Vediamo la formazione un attimo, Stefano. Hai fatto due rotazioni, hai fatto rientrare Gerobaudo, hai lasciato fuori Andreoli, hai messo Facundo al posto di Recino. Sono ottiche ormai di rotazione che hai quasi automatiche, c'è anche nell'ottica della partita di mercoledì, come stai ragionando? Allora, un po' tutte e due le situazioni. Uno, in questa situazione sto ragionando in ottica di mercoledì, perché comunque abbiamo due partite ravvicinate, quindi dobbiamo essere bravi noi a gestire anche le risorse umane, e quindi essere bravi a fare questo tipo di rotazioni e presentarsi alla partita di mercoledì il meglio possibile. Però poi dopo sarà anche un discorso che, al di là di questa settimana, che ci sarà anche durante la stagione, non solo quando ci sono le infrasettimanali, nel senso che quando tu hai una squadra forte e hai dei doppioni forti, cioè doppioni nel senso più giocatori in quel ruolo lì, devi essere bravo a gestirli. Loro devono capire che la squadra che vuole vincere deve avere questo tipo di, chiamiamole, soluzioni, accettarle, allenarsi come se dovessi sempre giocare, perché non è tanto il discorso che mi spaventa del rapporto umano, perché io sono sicuro che è quello, ma io voglio che non scada mai l'intensità nell'allenamento, quindi giustamente voglio che tutti siano sul pezzo e tutti devono sapere di poter giocare da un secondo all'altro. Ecco, questo deve essere la chiave che ci fa fare quel salto lì, perché la squadra che vuole vincere deve avere tanti giocatori di qualità, più giocatori di qualità e poterli anche gestire e farli girare in base agli stati di forma, in base alle situazioni, in base a tante cose, poi dopo mettiamoci dentro, chiamiamo anche il discorso delle quote, però da quel punto di vista lì devo dire che tutti i ragazzi si stanno allenando non bene, ma benissimo, durante la settimana, mi dispiace perché qualcuno purtroppo in questo momento è sacrificato, però io dico sempre, come dico anche a quelli più giovani che mi hanno fatto la domanda la settimana scorsa, Napoletano che ha esordito, Bassanini, bisogna avere pazienza, lavorare, lavorare bene e lavorare sempre con intensità perché prima o poi l'occasione arriva e se ti alleni bene hai sicuramente più possibilità di sfruttarla quando ti arriverà l'occasione. Un'ultima battuta sulla partita, tu dai la sensazione all'interno della partita di valutare una squadra titolare e poi le riserva, ti dico che cosa intendo, i cambi li fai sempre molto verso la fine, vuol dire che evidentemente non ritieni necessario come fa qualcuno al sessantesimo cambiare mezza squadra. No, oggi ad esempio stavamo girando bene quindi non avevo questa necessità di farlo. Poi dopo chiaramente quando ho visto che Musa Andoi era un po' in fatica quindi ho deciso di cambiarlo. Il cambio di Facundo l'ho dovuto fare perché sinceramente ecco quello mi è dispiaciuto tanto ma l'ho dovuto fare perché l'arbitro l'aveva puntato e me l'aveva pure detto che la prossima situazione l'avrebbe cacciato fuori quindi noi non potevamo permetterci di giocare con un uomo in meno. Però oggi ripeto l'allenatore quando vede che le cose girano bene per me non deve cioè io non me la sento di cambiare se una situazione la vedo bene poi dopo ci può essere un discorso di risorse perché mercoledì giochiamo ecco perché io sono un po' anche arrabbiato perché se noi avessimo chiuso questa partita io avrei fatto recuperare più qualche giocatore avrei avuto meno problematica nel far recuperare qualche giocatore in più.